Siamo quasi a metà dell'opera, a metà, il tempo tiene, le donne di Taromà che fanno giocare la palla per 35 km sono pronte questa sera alle 9 e fra poco sul fiume Adige alle 6 ci sarà il grande evento di inequilibrio sul fiume, 100 metri di attraversata di questi pazzi scatenati che vanno sulle cime delle Dolomiti vengono giù in città attraversano il fiume su un nastro largo appena che 10 cm a 10 metri d'altezza in mezzo alla corrente del fiume lo attraversano, vi aspettiamo ciao ciao Grazie 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 Grazie